Si aggirava per Piazzale Marconi impugnando un taser, un vero e proprio storditore in grado di mettere una scossa elettrica e ha deciso di testarlo su uno sconosciuto di passaggio. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di sabato. I poliziotti di pattuglia nella zona della stazione ferroviaria della città hanno notato un lampo blu provenire da uno strano oggetto impugnato da uno straniero. Subito è scattato il controllo e gli agenti hanno scoperto che l'uomo, un 33enne ucraino, era in possesso dell'arma, all'apparenza un comune cellulare e l'aveva utilizzata su un malcapitato di passaggio. La vittima, un 25enne marocchino, fortunatamente non ha riportato lesioni. L'ucraino, le cui condizioni erano alterate dall'alcol, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e sanzionato per ubriachezza. Il taser è stato sequestrato e sarà sottoposto a una perizia per capire se si tratta di un'arma comune. Nel caso l'esito sia positivo, l'accusa potrebbe trasformarsi in porto abusivo di armi improprie.